Direi che possiamo iniziare e iniziamo innanzitutto salutando le persone che ci hanno raggiunto qui presso il teatro della Fondazione Collegio San Carlo di Modena, oltre che le persone che ci seguono in diretta via streaming o ci seguiranno in futuro, dato che come noto le nostre conferenze vengono poi caricate nei canali social della Fondazione e sono rese fruibili, previo editing per un accesso libero agli utenti. L'incontro di questa sera si colloca nel contesto del ciclo di conferenze denominato Esperienza del limite e conoscenza dell'alterità nella cultura occidentale. In particolare la conferenza di questa sera è dedicata al tema Immagini dell'Italia, i viaggiatori del Grand Tour e la costruzione di un mito. Per affrontare ed esplorare questa tematica sicuramente suggestiva e piena anche, credo per ciascuno di noi, di qualche retaggio di carattere figurativo piuttosto che letterario, abbiamo chiamato quello che credo di poter definire a questo punto un amico della Fondazione San Carlo, perché ha già avuto occasione di gratificarci con la sua competenza, la sua presenza in altre circostanze, Michele Dantini, che è professore di storia dell'arte contemporanea all'Università per stranieri di Perugia, Dantini, il professor Dantini si è occupato di vari ambiti tematici nel corso del suo tragitto di ricercatore, di studioso e di docente, ha approfondito la tradizione naturalistica francese dell'Ottocento, ha pubblicato volumi divulgativi e non solo sulle avanguardie storiche del primo novecento, più recentemente si è concentrato sullo studio dell'arte contemporanea dalla fine degli anni Sessanta a oggi, è autore di numerose pubblicazioni e fra queste voglio citare le ultime, Arte politica in Italia, dal fascismo alla Repubblica, uscito per Donzelli nel 2018, sulla delicatezza uscito per il mulino nel 2021 e poi un volume che è in uscita, uscirà se non sbaglio la prossima settimana, Storia dell'arte, storia civile, il novecento in Italia, sempre per la casa editrice, il mulino. Ovviamente il ruolo di chi introduce in presenza di un argomento così solleticante è un ruolo abbastanza improbo, perché io devo cercare di confinarmi e di non fare una premessa alluvionale, mi piace però sottolineare il fatto che la conferenza di questa sera costituisce un unicum all'interno del percorso conferenziale dedicato al tema del rapporto con gli altri, con l'altro, con l'alterità e dei viaggi, perché in questo caso oggetto di sguardo esotizzante e in qualche modo di sguardo etnografico non sono gli altri tradizionali, cioè quelli dei luoghi remoti o dei tempi remoti, ma sono gli italiani, quindi l'altro potremmo dire con uno slogan un po' apodittico, in questo caso siamo noi, perché appunto si parla delle immagini e delle costruzioni anche di carattere mitografico che sono state costruite sull'Italia e sugli italiani nel corso del tempo, con particolare riferimento alla esperienza del Grand Tour, un'esperienza che di solito diciamo si è portati a rubricare all'insegna dell'anedottica e della curiosità intellettuale, mentre credo che il relatore di questa sera ci potrà evidenziare quanto questa esperienza sia stata fondativa, generativa di quella che chiamiamo modernità, innanzitutto perché ha introdotto un modo di intendere il viaggio e di intendere la mobilità individuale diverso da quello che era caratteristico del Medioevo quando il viaggio per eccellenza era il pellegrinaggio. Il Grand Tour diventa una sorta di pellegrinaggio laico che conserva, incorpora ancora alcuni dei retaggi del pellegrinaggio religioso tradizionale, perché il Grand Tour è associato all'elevazione spirituale, alla formazione della persona, ma il Grand Tour si alimenta di altre fonti, fra cui evidentemente le fonti artistiche che saranno al centro della trattazione di questa sera e soprattutto viene orientato verso altre finalità, che non sono solo quelle di carattere diciamo così edificante, spirituale, ma si fa il Grand Tour per istruirsi, si fa il Grand Tour anche per rendersi avvezzi alle durezze della vita, delle relazioni sociali e della politica italiana, che è probabilmente complessa, meno male che invece oggi è molto più semplice. Quindi siamo all'Italia, fuori dall'Italia, potremmo dire, o per essere più precisi, all'Italia nello sguardo di chi sta fuori dall'Italia. Un elemento importante per comprendere anche l'identità italiana, che è stata certo costruita dall'interno attraverso le narrazioni autorappresentative, ma molto di ciò che gli italiani pensano di se stessi è evidentemente debitore invece delle ricostruzioni, delle proiezioni, delle immaginazioni e possiamo dire a volte anche delle demigrazioni altrui. Ma mi fermo qua e cedo volentieri la parola al nostro ospite, il professor Michele Dantini, anticipando che come di norma in queste circostanze sarà previsto dopo l'intervento del professor Dantini il dibattito qui in sala e anche a distanza, per cui sarà possibile porre questioni e fare domande. Prego, professore. Grazie, Presidente. Un'introduzione direi impeccabile perché ha colto quali sono i nuclei del mio intervento. Immagini dell'Italia, viaggiatori del Grand Tour e la costruzione di un mito, il mito del bel paese, il mito dell'Arcadia Mediterranea, che attende il visitatore nord-europeo proveniente dalla Francia, ma soprattutto vedremo stasera dai Paesi Bassi e addirittura in particolare dai Paesi Bassi settentrionali, riformati e calvinisti, cioè l'attuale, l'odierna Olanda. Ecco, per partire una precauzione, noi leggiamo, e questa è un'immagine molto bella, anche molto fiorente, di una popolana laziale firmata da un pittore francese di metà ottocento, un seguace della scuola di Angra, un classicista, acerrimo, nemico degli impressionisti, ma adesso tutto questo ci interessa fino a un certo punto. Noi leggiamo la tradizione del quadro, del souvenir d'Italie, del quadro italianizzante, come una tradizione in termini un po' semplificati ed è per certi versi un po' candidi. Cioè noi ci siamo abituati a vedere queste cartoline, perché per decenni, per secoli, non essendoci cartoline, l'esportazione dell'immagine italiana era affidata a quadri che erano dipinti in Italia su estero, per così dire, e quindi finivano nelle collezioni patrizie del nord Europa. Ecco, noi la leggiamo in termini semplificati, nel senso che leggiamo solo l'omaggio, e l'omaggio è semplice da riconoscere, l'omaggio al clima, l'omaggio all'ubertosità della terra, la generosità della terra, l'omaggio alla bellezza del popolo italiano, che inconsapevolmente, senza meriti apparenti, cita Raffaello, cita l'antico. Qui, voglio dire, Jerome trasceglie un dettaglio, una postura, perché quel gesto, quella postura della contadina in primo piano, gli ricorda una figura della fresca o l'incendio di Borgo di Raffaello in Vaticano. E d'altra parte, come non riconoscere, sottotraccia, un'offerta di natività, diciamo così, etnografica o paraetnografica in queste immagini. Perché dico che tutto questo è ambivalente? È ambivalente perché a fronte di un'indubbia commozione e adesione e ammirazione per il paesaggio italiano e per una certa bellezza, una certa spontaneità della vita che si compie in Italia, quando dico italiano da qui in avanti intendo centro italiano e intendo laziale, perché questa è la scoperta, soprattutto il paesaggio intorno Roma, noi parliamo sostanzialmente di questo. E' semplice leggere appunto l'encomio in tutto questo. D'altra parte sembra che in Italia non esista modernità, non debba esistere modernità. Cioè la stessa disponibilità a dipingere souvenir d'Italie soffre per così dire di amnesie. Cioè tutto quello che è vita moderna comparata con standard nord europei, in particolare conflitto sociale, tecnologia, industria, urbanesimo, sparisce magicamente in questa fatata arcadia mediterranea. Quindi è un elogio del ritardo. Questa è l'ipotesi sostanzialmente, o la stereotipia che regge da noi non rilevata, ed è una stereotipia etnografica appunto, che presuppone la coppia classica dell'etnografia, indigeno stanziale, monoglotta, viaggiatore colpto, cosmopolita e poliglotta, che regge sostanzialmente le retoriche del viaggio italiano. Dal seicento in poi. Io voglio costruire un racconto con voi, che disattendendo in parte le aspettative appunto un po' come dire belletristiche della letteratura sul Grand Tour, che sembra sempre una sorta di grande banchetto di cui ci dobbiamo compiacere lungo i secoli, vorrei rendere le cose un po' più complicate e vedere come la storia religiosa europea e le lacerazioni della storia religiosa europea si intrecciano alla costruzione dell'alterità, e in questo caso l'alterità appunto siamo noi, o se vogliamo si intrecciano a un incipiente autorappresentazione nazionale che incompare, sì in Italia, ma ad opera di pittori provenienti da paesi riformati. Quindi un'autorappresentazione nazionale degli olandesi in Italia che sostanzialmente tra le righe dell'encomio, tra le righe della bellezza dei paesaggi rappresentati introduce una serie di riflessioni, commenti, allegorie, moralizzazioni del paesaggio italiano che trovano spiegazione sostanzialmente se consideriamo la letteratura devozionale e la predicazione calvinista, o perlomeno questo contribuisce in larga parte a spiegare determinate continuità iconografiche. Ecco, all'inizio e alla fine del mio racconto ci sono queste due immagini. Iconoclasmo protestante, a più riprese nel corso del Cinquecento, partendo dalla Svizzera per passare alle fiandre francesi, entrare poi nelle fiandre belgo-fiammide e olandesi secondo la geografia politica attuale, noi troviamo delle offensive contro le immagini sacre. Offensiva contro le immagini sacre che porta o a colpire gli occhi, quasi magicamente a negare la vita dell'immagine, togliendole gli occhi, a distruggere le statue, a bruciare chiese e in un'occasione almeno, in anversa nel 1566, a uccidere i sacerdoti. Io non voglio diffondermi sull'importanza, diciamo così, sulla cronaca di questi elementi, vedremo poi insieme per vostra comodità un po' di luoghi, un po' di date, però consideriamo che l'iconoclasmo protestante, cioè la distruzione dell'immagine sacra, è un problema non semplicemente di storia religiosa o di storia sociale della religione o di storia della violenza, ma è un problema anche di storia dell'arte. Questo per due motivi. Uno perché naturalmente comporta ingenti danni patrimoniali per la Chiesa Cattolica e soprattutto dal nostro punto di vista perché crea una situazione sostanzialmente, come dire, paradossale o simorica di artisti vicini alla riforma protestante, che ovviamente però non possono smentire se stessi come artisti figurativi. E quindi usano in qualche maniera l'iconoclasmo, a distanza magari di uno o due generazioni, per rigenerare la pittura sacra creando nuovi generi figurativi. Noi possiamo interpretare, e questa è una cornice larga, diciamo, della conferenza, possiamo interpretare la nascita della natura morta e la nascita della pittura di paesaggio in buona parte anche in correlazione all'iconoclasmo e all'esigenza da parte protestante di artisti appartenenti a quell'area e che condividono determinati elementi di polemica antireligiosa contro le immagini sacre, diciamo così, o anti-idolatrica. Possiamo leggere la nascita della pittura di paesaggio che andremo a vedere come una risposta plausibile all'iconoclasmo protestante, una risposta che non sia semplicemente autolisionistica e distruttiva per gli artisti stessi. Il punto finale di questa conferenza è appunto la nascita di una pittura di paesaggio italianizzante, ma quello che ci interessa in generale è la nascita della pittura di paesaggio che certamente si specifica, secondo determinati requisiti, determinate iconografie, determinate narrazioni, anche come una pittura del paesaggio centro-italiano-campagna romana. Che però ha inventato, e come vedremo noi stessi oggi, che abbiamo smarrito un po' la tessitura fine di questi processi figurativi, di queste trasformazioni figurative. Soprattutto abbiamo perduto il nesso tra storia religiosa e storia delle immagini, per cui non ci riusciamo a spiegare perché, ad esempio, in questi quadri, questi artisti olandesi di grande fama, italianizzanti, andassero in cerca del selvaggio proprio nella campagna attorno a Roma, che sembrerebbe una delle più antropizzate da sempre, e quindi prestarsi estremamente poco alla rivendicazione di un terreno brullo, spopolato, arido, quasi una savana in mezzo all'Europa. L'invenzione del vuoto. Com'è che la pittura del paesaggio nasce, in particolare la pittura di paesaggio italianizzante, nasce sul presupposto della scoperta figurativa di una dimensione altra, che fino a questo momento non aveva trovato un'iconografia, che io chiamerei semplicemente la wilderness o il vuoto. Teniamo a mente questo. Tutti i paesaggi che vedremo e che noi consideriamo spesso vedute, quindi paesaggi con responsabilità topografica, quindi con scrupoli di verosimiglianza, sono delle finzioni. Ci sono delle costruzioni selettive di un paesaggio che vuole essere specificato attraverso alcuni elementi costanti, uno di questi è la faticenza della civiltà al suo interno, in particolare la faticenza della civiltà cattolica, come si dice al tempo, papista. Quindi un titolo poteva essere forse più aderente. Questo perché nasce una contrapposizione tra Nord e Sud Europa sulla scorta delle lacerazioni religiose che non c'è stata fino a questo momento, o addirittura un'Italia post-colonia l'avrebbe potuto essere un titolo ancora più aderente. Nel senso che noi andiamo a decostruire la stereotipia e l'estetismo che alterizza, cioè che in qualche maniera crea una figura diverso da noi. Bene, questa era l'introduzione. Allora noi ci dedicheremo in particolare a un gruppo di artisti olandesi che vivono a Roma a partire dagli anni 20. Quindi io forzo la definizione di Grand Tour, nel senso che non mi occupo questa sera, in questo segmento di una storia più ampia che andrò a raccontare nel prossimo libro, di tutte le forme di viaggio, di tutte le immagini di viaggio che sono state o di un'antologia tratta da tutti i repertori. No, mi occupo di un episodio più circoscritto che non è stato mai studiato con riferimento al Grand Tour perché questi artisti in apparenza non viaggiano ma risiedono. Per cui la quintessenza di questo viaggio è la stanzialità in Roma. Sono artisti per lo più olandesi, in qualche parte fiamminghi o tedeschi, ben conosciuti a Roma, per lo più protestanti, di cui si dice che la fede non intervenisse nell'invenzione delle immagini. Io cercherò di mostrare che in realtà invece certi elementi, diciamo così, di contrapposizione religiosa intervengono e come nel dettare iconografie, nel dettare amnesie, nel dettare stereotipie. Artisti che vivono a Roma e fanno grandi baldori e bisbocce e sono chiamati bamboccianti in onore di un loro capofila che poi incontreremo, che si chiama Peter Van Laer e a cui era stato dato il nomignolo di bamboccio perché sembra affetto da una qualche distrofia ossea che aveva reso la sua testa particolarmente cospicua rispetto al resto del corpo. Detti anche bentvoigels, uccelli liberi in qualche maniera, e ben caratterizzati perché vivono tutti più o meno in una zona di Roma molto precisa intorno a Via Margutta, fanno casino, si ubriacano, fanno feste. Hanno dei rituali di iniziazione molto precisi sui quali ci soffermeremo in seguito perché non aneddotici, in qualche maniera blasfemi. Saranno soppressi nel 1720 dal decreto papale perché effettivamente, diciamo così, un qualche odore di blasfemia è effettivamente riscontrabile nelle loro immagini anche se noi non riusciamo più a leggerlo. E iniziamo da uno dei due artisti olandesi che fondano la cerchia dei bamboccianti, dei bentvoigels, e cioè Cornelis van Pölenburg. L'altro è Bremberg e ci soffermeremo dopo. E vediamo questa prima immagine di Roma veduta di Campovaccino 1620 circa. Io vorrei che cercassimo di, ripeto, mettere da parte la veduta come la conosciamo a partire dalla veduta settecentesca, quindi una veduta scrupolosa, descrittiva, in qualche maniera responsabile topograficamente, contigua al disegno di architettura, e invece iniziassimo a vedere queste immagini come dei gran capricci, come delle scene di invenzione in cui gli elementi di commento, di satira, di umoralità dell'artista sono ben presenti. Questo non perché Campovaccino al tempo non avesse tratti, diciamo così, rurali o di campagna interna alla città, ma perché certamente Roma forse meritava altri tipi di rappresentazione che non sempre e solo, perché naturalmente questa rappresentazione di una città che si sta decostruendo letteralmente, di una città morta, torna in infinite sequenze iconografiche. Evidentemente c'è un elemento, come dire, intenzionale, programmatico, no? Per cui l'elemento fondamentale che noi dobbiamo tenere presente è che qui i templi vanno in rovina e che la città si ruralizza, addirittura si insabbia come fosse una città del deserto. Scompaiono tutta una serie di elementi, diciamo così, che interpretano il paesaggio moderno, il paesaggio urbano moderno, che pittori, sempre olandesi o fiamminghi, negli stessi anni stanno dipingendo nelle loro città, a Anversa anziché a Delft, a Harlem, anziché a Rotterdam. Non ci sono mercati, non ci sono fori, non ci sono tribunali, non c'è commercio, non ci sono folle eleganti, non ci sono raduni civici, non ci sono, se non occasionalmente, momenti, diciamo così, che attestano consapevolezza o cura o responsabilità nei confronti della città stessa. La cosa è molto strana, perché gli olandesi della precedente generazione, maestri manieristi, diciamo così, loro sì, italianofili, e davvero residenti a Roma, e ammiratori dei grandi artisti del Rinascimento, ci hanno dato, di Roma sostanzialmente, un'immagine ben diversa, ci hanno dato di Roma l'immagine di una città che è capitale dell'architettura mondiale, in cui l'antico, ma un antico ben preservato, non un antico, diciamo così, andato in pastorizia, si miscela con architetture contemporanee. Al punto, si sono a tal punto identificati con Roma da autoritrarsi, Martin van Emskerk è un esempio, davanti al Colosseo e nelle fogge di un Michelangelo olandese, perché chiaramente chiunque abbia visto un'immagine di Michelangelo riconosce Michelangelo stesso al di sotto dell'autoritratto di van Emskerk. Quindi, a distanza di qualche decennio, l'atteggiamento nei confronti di Roma in Pølenburg è molto molto diverso, è molto mutato e di questo ce ne dovremo in qualche maniera fare una ragione. L'altro fondatore dei Bentvoigels, o dei bamboccianti, diciamo dei paesaggisti italianizzanti che risiedono a Roma, è Bartolomeus Bremberg. Vediamo come Bremberg costruisce determinate immagini. Immagini che fanno riferimento alla storia biblica, alla storia vetero-testamentaria in questo caso, ma che ci portano poi nei pressi, diciamo così, della città pontificia. Qui abbiamo Mosè e Aronne che mutano in sangue i fiumi dell'Egitto. È un quadro dipinto a Roma, ma verosimilmente poi destinato ai collezionisti olandesi. e che cosa si rappresenta qui? Le iconografie sono sempre molto importanti, il racconto è sempre molto importante. Si rappresenta una delle prime piaghe d'Egitto, cioè sostanzialmente il Faraone nega al popolo israelita di poter lasciare l'Egitto, nonostante le richieste in tal senso di Mosè, e allora Dio, irato contro il Faraone, dà facoltà a Mosè, soprattutto ad Aronne, di trasformare in sangue i fiumi d'Egitto. Poi seguiranno la piaga delle rane, la piaga delle locuste e via dice, sappiamo come va la storia. Il quadro è costruito secondo una bipartizione abbastanza curiosa che troviamo spesso in Bremberg. Da una parte noi abbiamo la metà con le rovine e gli idolatri, cioè gli Egizi al seguito del Faraone. Dall'altra abbiamo un fiume, elemento lustrale, un guado e poi la libera campagna. La cosa che ci sorprende, quindi potremmo pensare, è quasi una contrapposizione tra pittura di storia e di religione, a sinistra, idolatrica, e pittura di paesaggio, invece pia, santa, concessa, autorizzata dalla vera fede, dall'altro. Le rovine, d'altra parte, ci portano direttamente dentro Roma. Sono rovine classiche, sono le rovine dei fori, sono i capitelli greco-romani. Quindi l'elemento del Faraone va per così dire in sovrapposizione alla città eterna. Ora, negli scritti di Calvino, che adesso citiamo molto velocemente perché non voglio trattenere, negli scritti di Calvino noi troviamo, è perfino banale, diciamo così, ricordare che Calvino si autoritrae come Mosè, che trae gli ebrei fuori dalla terra della cattività in Egitto, e che il popolo riformato è l'Israele di Dio, che segue Mosè in questo transito, in questo guado. È molto semplice dunque capire che il Faraone va in sovra... ipotizzare, che il Faraone va in sovrapposizione al Papa e che in questa contrapposizione o scontro di civiltà, intendendo per civiltà, religioni, c'è un avvicendamento, un avvicendamento dalla pittura di figura, la pittura di storia e di religione considerata empia, messa al bando dai riformatori come Calvino stesso, come Carlo Stadio, in maniera più attenuata da Lutero, quindi la pittura contro cui si sono scagliati gli iconoclasti, e la pittura di paesaggio che invece è ammissibile. E di tutto questo possiamo trovare tranquillamente chiavi in Calvino. Io adesso mi fermo semplicemente a questa cosa qua che è questi due passaggi tratti dalle istituzioni. Come si fa a ridurre la dimensione qui? Grazie. Due passaggi tratti dalle istituzioni della religione cristiana in cui Calvino si scaglia contro la pittura, grazie, la pittura, quale pittura? È chiaro che Calvino non è un conno, così come Lutero, così come Carlo Stadio, così come Martin Buzzer, non sono dei conno, ma evidentemente qualcosa conoscono del rinascimento italiano, del manierismo, di scuola veneta, si scaglia contro l'erotismo della pittura italiana che dipinge madonna e sante come donne di piacere, si scaglia contro l'eccesso di eleganza, contro l'ingannevolezza anche del quadro marinierista che pone sempre figure di tre quarti, né di profilo né di fronte. Tutto questo è idolatria. Che cosa ammette Calvino? È in un brano stupefacente in cui quello che non ha messo è ciarpame, ricordatevi il termine, perché da questi testi noi possiamo trarre iconografie, i pittori sicuramente lo fanno, noi vedremo cumuli di ciarpame dipinto, i costumi di storia, i costumi della pittura di storia e di religione ammassati ai piedi del tempio in rovina. Ma in un passaggio secondo me decisivo in questa tesissima teologia dell'immagine europeo cinquecentesca, Calvino passa poi alle conclusioni. Che cosa si può dipingere? Non si può dipingere Dio padre perché l'infinito, la prima figura della Trinità non è, non ha forma umana. E qui tutti i padri della Chiesa, soprattutto i greci cappadoci, convengono. La prima figura della Trinità non si dipinge. La figura, la seconda figura della Trinità che se non altro si è incarnato, Cristo, lo si può dipingere, ci dice Calvino, Eucarestia e Battesimo. Ricordate il Battesimo, Giordano, fiume, acqua, elemento lustrale. E poi basta. E poi si dipinge ciò che l'occhio vede. È una frase abbastanza, come dire, anticipatrice degli sviluppi della storia dell'arte europea. Si dovrà arrivare all'Ottocento in qualche maniera per una rivendicazione così netta di pittori che vogliono dipingere con tutt'altra intenzione rispetto a Calvino ciò che l'occhio vede. Cos'è che l'occhio vede? Figure umane, cioè ritratti in primo luogo, paesaggi e animali. Nient'altro. È chiaro allora che mi pongo domande su una certa teatralità della distruzione o teatralità messa in teatro diciamo così del transito dalla pittura di storia e di religione quindi dalla pittura italiana classico rinascimentale manierista alla nascente pittura di viaggio. Naturalmente io non so non saprò mai nessuno di noi saprà mai se Bremberg leggesse Calvino ma magari leggeva qualche per noi sconosciuto dimenticato iconografo riformato che dettava esattamente le plausibilità religiose della pittura. E qui la cosa sorprendente è proprio questa congiunzione si sono sempre dipinte rovine per significare la vanitas o il fatto che l'uomo è bulla una bolla che gli imperi non reggono alla durata alla prova del tempo che altro è Cesare e altro è Dio si è sempre fatto questo nell'arte cristiana il problema qui è l'ubicazione l'elemento nuovo qua è l'ubicazione ciò che è bulla è la Roma pontificia alias faraone queste queste sono immagini dell'iconoclasmo ma adesso passiamo oltre e questo diciamo sono determinati luoghi una geografia piuttosto diffusa e anche un'acrologia piuttosto estesa queste sono alcune difese da parte cattolica peraltro del tutto legittime che già nel 55 con questo testo di Canisio chiariscono che essendosi incarnato il figlio di Dio evidentemente Dio ha accettato la prima figura della Trinità ha accettato di diventare immagine nella sua seconda figura quindi l'immagine perciò stesso è legittima teologicamente e il bando che c'è nella Bibbia nel libro dell'Esodo il bando del vitello d'oro e dell'idolatria non vale evidentemente per il Nuovo Testamento e per leone cristiano ma non mi soffermo su questo voglio passare a un altro quadro di Bremberg il martiglio di Santo Stefano Santo Stefano uno dei primi martiri della Chiesa Cattolica Anpassan vi dico che in un testo molto famoso di Calvino molto sanguinoso contro la Chiesa Cattolica contro la pretesa iconolatria cattolica Santo Stefano gioca un ruolo molto particolare in evidenza perché è uno dei santi di cui esistono più reliquie e chiaramente Calvino ha buon gioco nello scagliarsi contro il culto delle reliquie quindi Santo Stefano può entrare in una semantica diciamo così polemica anticattolica già per questo passo del pamflet di Calvino contro il culto delle reliquie di Santo Stefano c'erano osse tibia femori capelli un po' ovunque in Europa di fatto noi in Bremberg qui troviamo una situazione a livello riducendo il quadro tristemente a diagramma ma a schema tutto sommato ci serve abbiamo la stessa situazione di prima abbiamo cioè una metà del quadro occupata dalle rovine con gli idolatri in primo piano che stanno uccidendo a sassate il santo in ginocchio e dall'altra parte abbiamo una metà libera di pittura di paesaggio abbiamo lo stesso schema per antitesi diciamo così dualistico bipartito secondo la verticale centrale con le figure e gli edifici da una parte il paesaggio dall'altra abbiamo anche la figura di un segnalante che probabilmente è l'autoritratto di Bremberg che indica in direzione degli idolatri e nei pressi dell'autoritratto di Bremberg o della figura che si rivolge comunque a noi dall'interno del quadro noi troviamo un mucchio di ciarpame esattamente i costumi della pittura di storia quelli che Calvino ha contestato come eccessi di moda di eleganza di cortigeneria di sofisticazione di eccessi profani nel quadro religioso classico rinascimentale e manieristico una quercia morta che sta rinascendo quindi colpita dal fulmine di Dio fa da pandan sostanzialmente ai fori romani alle architetture romane sulla metà destra sostanzialmente noi abbiamo qui una sedimentazione diciamo così iconodula cioè favorevole a un esercizio della pittura della polemica anticattolica sviluppata nell'iconoclasmo con la nascita di una pittura di storia scusate di paesaggio più più una pungente polemica anticattolica antipopulista antipapista in cui la meretrice Babilonia o il faraone si sono trasferiti a Roma e anche qui sarebbe semplice trovare traccia di questa satira antipapista in innumerevoli passaggi quello che colpisce che la pittura fiamminga negli anni 50 e 60 del 500 ha sviluppato un genere di satira della plebe no? a dirlo così sembra difficile tutti noi conosciamo Bruegel la cosa strana è che a distanza di una generazione questa plebe si è trasferita a Roma e di nuovo qui troviamo l'etimo di quella riduzione ruralista di Roma di cui vedevamo traccia nella veduta del campo vaccino di Pölenburg adesso ci spieghiamo che c'è un elemento o abbiamo buoni motivi di credere che c'è davvero un elemento satirico ma che quella che era satira della plebe rurale nei paesi bassi e nelle fiandre diventa qui satira della città pontificia diciamo meglio distruzione del mito dell'urbs eterna distruzione del mito dell'urbs eterna teniamo presente che alla data in cui Brill dipinge questo foro romano o Pölenburg dipinge la veduta del campo vaccino Roma non era esattamente un pascolo per armenti si era appena chiusa la fabbrica di San Pietro tanto per dire che probabilmente ciò che abbiamo di fronte non è affatto veduta ma satira e cerchiamo di verificare tutto questo che naturalmente fa vedere come il Grand Tour deposita o comunque l'esperienza di viaggio la scoperta del paesaggio italiano da parte di artisti stranieri va letto secondo scansioni cronologiche e culturali geoculturali molto precise e molto ben diversificate tra di loro e come nel mito del paesaggio naturale italiano tra le righe ci siano elementi a dir poco velenosi nei confronti delle istituzioni politiche delle istituzioni religiose e della plebe cioè del popolo italiano nel suo complesso in quanto papista ci sono quattro iconografie che noi continuiamo a leggere secondo la categoria longhiana del naturalismo o del realismo e che non sono manco per niente naturalistiche questo è un po' il senso di tutta poi la conferenza cioè le rovine i porti porti italiani intendo sono quattro iconografie che costellano la invenzione del paesaggio italiano da parte di questa cerchia di artisti che sono i primi a farlo rovine porti caverne anfratti spesso con scene di bisbocce di masnada diciamo di vario genere e poi le piazze di roma con perditempo e ciarlatani e cerchiamo di leggere queste immagini distaccandoci un po' dall'equivoco dall'inganno del credere che si tratti di vedute nel senso descrittivista nel senso obiettivista che a questo termine danno le successive fortunatissime vedute di artisti come Van Vitte il canaletto eccetera a distanza di un secolo vediamo ad esempio di Bremberg questo interno di rovina ora è chiaro che ci troviamo ai fori romani ma se guardiamo l'immagine diciamo così questa ha come dire un elemento fisiognomico abbastanza straniante l'insistenza delle ombre l'aprirsi di grandi arcate che sembrano cavità oculari e tutto questo ci porta immediatamente ha un'immagine precisa della bulla della vanitas degli imperi che non tengono di cui do qui un'immagine filologicamente adeguata perché tratta dal repertorio olandesi della generazione prima dove il fanciullo tempo un'immagine quasi nicciana sostanzialmente cavalca il teschio e ci è più chiaro che cosa veramente stia dipingendo Bremberg non sta dipingendo rovine in un senso banale sta dipingendo teschi sta dipingendo il fato di morte che attende una certa geografia culturale una certa istituzione il papato perché immagini del tempo come portatore di distruzione chiaramente avevamo quello che mancava era l'ubicazione e qui questi corvi che si muovono attorno a rovine in stato di avanzata decomposizione non sono lì per caso non sono lì perché passavano di lì come se fosse Bremberg fosse stato Manet no sono lì perché l'immagine in qualche maniera confeziona una profezia e lo fa con una sorta di acido entusiasmo di humor noir nei confronti delle sorti dell'odiato dell'odiata meretrice Babilonia che Roma sia l'anticristo che Roma sia in rovine anche qui estraiamo un'iconografia dal testo dai testi di Calvino non ci sorprende c'è però un elemento diciamo così che spiega ulteriormente questo tipo di sguardo questo tipo di attenzione vagamente malevola diciamo così e caustica corrosiva se non blasfema che Calvino aiuta incoraggia e come lui altri riformatori a leggere la storia politico-militare in termini di storia della provvidenza quindi le sconfitte quindi i crolli quindi le distruzioni sono decreto di Dio ora Roma è stata messa a saccheggio nel 1527 dagli eserciti tedeschi agli ordini di Carlo V da soldatagli luterane si usa il termine diciamo così diciamo così senza nessuna precisione o responsabilità teologica però erano soldati che detestavano il Papa perché in qualche maniera e Roma è stata messa a sacco nel 1527 indubbiamente di questa traccia che sconvolge l'umanesimo italiano che pone fine all'umanesimo romano che crea una diaspora di artisti alcuni disperati per quello che sembra un segno degli astri in qualche maniera ecco quindi la lettura di queste rovine è in qualche maniera iscritta in un disegno provvidenziale accolto con entusiasmo e anche lì che Roma fosse Sodoma Gomorra e Babilonia e che quindi si meritasse la stessa sorte di Sodoma Gomorra e Babilonia mi sto riferendo alla Roma papale naturalmente noi lo troviamo usualmente nei testi di letteratura devozionale o di riflessione teologica riformata solo dei ruderi questo c'è a Roma e gli artisti sembrano prendere molto sul serio questa invettiva diciamo questa metafora di Calvino tanto che le guide contemporanee che io non vi voglio infliggere vi faccio passare semplicemente a mod di immagine si guardano bene da descrivere Roma come una città di ruderi è piena di chiese nuove o recenti questo vedevano i pellegrini per cui naturalmente sembra ancora più necessario domandarsi sulla strana monotematicità di rappresentazioni di rovine dunque sì certo il luogo comune ci dice che Roma era un'attrazione esercitava un'attrazione irresistibile su questi artisti del nord Europa ma forse questo è veramente un luogo comune forse oltre all'attrazione c'era anche l'odio la repulsione l'esecrazione forse quella metafora terribile per certi versi della Roma papale del papato come spelonca di ladri che Lutero usa in più di un'occasione forse ha qualcosa a che vedere con questa scelta di immagine così ricorrente nella cerchia che noi consideriamo e qui è più facile immaginare l'allegoria non è una non è una veduta di porto neutra disinteressata e elogiativa solo del buon clima qua c'è una scena di tentazione una scena di seduzione una scena di corruzione quella nave che ha portato un viaggiatore si presume dal nord Europa perché evidentemente non veniva dal Bangladesh diciamo una nave di quella data lì dal nord Europa al porto di Anzio è la nave forse della chiesa riformata secondo una metafora assolutamente corrente della chiesa come nave e chi scende da quella nave che si inoltra diciamo così nel territorio italiano incontra donne di piacere incontra giocatori di morra incontra forse pestilenze incontra ladrocini incontra indolenza incontra ozio incontra pericoli di ogni genere no? e rovine naturalmente e qui l'immagine della donna di piacere è anche più e vedete come diciamo nel frattempo si costruisce sedimenta si consolida una serie di stereotipi anzitutto per esempio come dire anche il corpo indigeno come luogo sessuato come preda sessuale tutta una serie di contrapposizioni che noi ritroveremo tali e quali nell'etnografia classica e nella letteratura di viaggio otto-novecentesca ma spostate in Africa magari o spostate in Estremo Oriente ma nascono qua nascono da noi senza che noi ne sappiamo oggi stesso in qualche maniera ne siamo consapevoli e diceva bene il Presidente prima che effettivamente nella costruzione della nostra immagine nazionale noi spesso abbiamo interiorizzato le proiezioni dello straniero per cui l'equivalenza l'equazione un po' era bellezza faesaggistica e antica in cambio di plebe veniamo a un altro stranissimo una strana iconografia che è stata giustamente non da me da uno studioso americano nordamericano David Levin secondo me con molta ragione si è interrogato su questa io vi presento un esempio ma possiamo dozzine di immagini sullo stesso tema i porti le fornaci dove si fa la calce sempre a Roma siamo che cosa vuol dire? beh qui si butta roba romana statue cose preziose importanti frammenti di capitello fregi e se ne trae calce è un'immagine molto selletta se non guardata come semplicemente un gusto del pittoresco innocente diciamo così e casuale è un'immagine molto sinistra come sinistri sono questi figuri in primo piano qui è l'urbs eterna che si divora è un'altra immagine di rovina quasi di predestinazione alla rovina nell'imbecillità generale nell'incuria e nel plebeismo collettivo bene non ci sorprende che alla luce di tutto questo i pittori italiani prima che lo facesse il Papa o la magistratura pontificia si infuriassero contro i Benvoigels e ci sono polemiche molto roventi e che noi abbiamo lasciato un po' cadere ma non perché ci interessi come dire suscitare un'indignazione retrospettiva ma figuriamoci perché dà ricchezza alle due parti in conflitto e ci permette di guardare anche forse con più insieme di stacco e più fierezza l'esistenza a quest'uso del paesaggio italiano che si va facendo tra i pittori italiani romani del tempo che polemizzano più duramente contro i bamboccianti accusandoli di essere sordi di turpi blasfemi anticristi eccetera eccetera c'è Andrea Sacchi e guardate come Sacchi rappresenta la cattolicità dal suo interno qui siamo nella chiesa della Vallicella a Roma una chiesa riscattata diciamo così da un oblio secolare dalla faticenza da un santo Filippo Neri nella prima metà degli anni Cinquecento Filippo Neri è anche un iconofilo o un iconodulo come dovremmo dire cioè un santo che pur come dire inventando una forma di cattolicesimo oratoriale che riscattava anche i giovanetti di strada li portava a dipingere li portava a cantare li portava a pregare che dà un grande dà una grande importanza all'immagine al culto dell'immagine e tante leggende ci sono su Filippo Neri seduto inginocchiato di fronte alle immagini che sembrano visitarlo no? e riempie la chiesa anche di immagini importanti e dopo di lui i suoi i suoi i suoi eredi non solo contribuiranno a incrementare il collezionismo della chiesa anche Rubens farà un quadro meraviglioso che ancora oggi troviamo alla Vallicella ma questo clima intorno a Filippo Neri avvia ricerche sulla chiesa primitiva che non ci sono mai state siccome gli iconoclasti Calvino in primis dice che la chiesa primitiva era iconoclasta non si avvaleva di immagini ecco che a Roma si fa una cosa molto semplice e storiograficamente molto giusta si dimostra che le catacombe sono piene di affreschi quindi nasce in questi anni pensate a Roma un culto dei primitivi che noi ci aspetteremmo di trovare solamente nell'ottocento comunque Sacchi dipinge la Vallicella in un giorno di festa la processione il giorno dopo che Filippo Neri e altri cinque santi sono stati canonizzati in Vaticano e la chiesa è un tripudio di arredi liturgici in primo in primo piano naturalmente il paliotto con Filippo Neri che riceve la visitazione di una figura santa e questa visitazione è un'immagine nell'immagine in qualche maniera quindi qui abbiamo veramente schierato l'iconodulia cattolica contro l'iconoclastia protestante in difesa dell'importanza liturgica delle opere d'arte degli arredi sacri e della bellezza nel suo complesso una posizione per certi versi che lambisce quella della chiesa ortodossa con cui naturalmente Andrea Sacchi non ha nulla in comune ma ragionando in libertà e qui c'è una poesia di Salvatore Rosa che insulta questi profanatori questi dipintori di sozzezze ora passiamo a un Giuseppe Maria Cresti a cavallo tra 6 e 700 grandissimo pittore di scuola bolognese noi leggiamo tutto questo in termini di pittoresco il sospetto è che questo sia un'allegoria con la pittura italiana che prende a sassate sostanzialmente il bambocciante che insozza il cortile di casa e che prende la povertà italiana la povertà in qualche maniera cattolica per una scelta di sporcizia o un'incuria moralmente riprovevole è quindi una lettura apologetica in qualche maniera e umoristica ma io adesso voglio quanto mi rimane? 15 minuti voglio darvi un voglio voglio ritornare agli olandesi dopo avervi mostrato che tipo di inquietudini cioè che questa voglio dire questa blasfemia la vogliamo chiamare questa provocatorietà di un determinato repertorio di immagini non è un'invenzione dello storico ma è testimoniata dai pittori italiani che si trovano a essere in qualche maniera spettatori di questo nuovo ambito figurativo chiudiamo questo capitolo adesso e vorrei darvi una lettura più interna di questa pittura di paesaggio ritornando un po' all'iconoclasmo se vogliamo attraverso e alle conseguenze che questo ha sulla pittura olandese Esaias van de Velde pittore davvero di scarsa fama presso di noi che non studiamo queste storie e non le studiamo soprattutto nella loro interrelazione con la nostra storia come se questa divisione nord-sud continuasse a sopravvivere pittore che ha una storia una biografia che conosciamo abbastanza bene figlio di commercianti di Anversa figlio di una famiglia di prosperi commercianti di Anversa la famiglia subisce lui piccolo il saccheggio la messa a ferro a fuoco di Anversa da parte della soldataglia spagnola e i protestanti i calvinisti sono esiliati dalla città devono scegliere la conversione forzata o l'esilio la famiglia van de Velde si sposta a Harlem e di questa esperienza della messa al bando della proscrizione van de Velde si ricorda tanto da tornare da commentare in immagini la sua stessa autobiografia tutto questo ci interessa relativamente se non per arrivare dove voglio arrivare e cioè l'invenzione di una pittura di paesaggio prossima al grado zero dell'iconografia dobbiamo aspettare Corot cioè più di 200 anni per ritrovare nella pittura europea dei paesaggi semplificati a questo punto e allora è difficile negare che la confessionalità calvinista l'esperienza dell'iconoclasmo l'esperienza dell'esilio e in qualche maniera una sorta di contrapposizione a tutta una civiltà conosciuta attraverso le truppe spagnole non abbia interferito nel maturare una scelta che parrebbe provocatoria parrebbe anacronistica cioè eppure doveva esserci un mercato per immagini di questo tipo mentre in Italia avevamo i guidoreni avevamo i rubens avevamo i cavalieri d'arpino in Olanda si avevano queste immagini cos'è il New Yorker del 1920 ed è chiaro che qui il paesaggio è olandese c'è la duna la duna bassa è difficile non leggere tutto questo come una impollinazione post iconoclasta come la scelta di una pittura di estrema semplicità che non voglia lusingare la pompa non voglia eccitare i desideri di dominio non voglia celebrare i papi o i cesari che dal punto di vista di chi dipinge un quadro del genere coincidono si sovrappongono l'uno all'altro e allora anche questo cammino che si lascia alle spalle si tiene discosto dalla rovina romana dalla rovina cesaropapista diciamo così e sin oltre nella natura acquista una valenza allegorica rinnova il tema il topos della retta via e della via che invece non è retta la retta via si tiene lontana dalle memorie ormai fatiscenti di una paganità che congiunge i cesari antichi ai cesari contemporanei cioè il papa ed è anche diventa immediatamente più intuitivo il perché si facciano immagini del genere in Italia perché evidentemente si vuole opporre la crudezza della natura alla pompa della pittura cattolica o papista o pontificia un partito preso quasi cinico che i pittori residenti in Italia schierano contro l'illusione l'inganno l'adulazione la celebrazione la pompa e via dicendo non voglio dire ragione per niente nel senso ognuno ha i suoi partiti presi ed è anche comprensibile che le poche immagini che noi abbiamo di questi artisti stanziali italianizzanti loro malgrado si potrebbe dire per certi versi contengono elementi di blasfemia i riti orgiastici l'ebrezza il rifiuto del digiuno e la chiesa cattolica si sa che richiedeva dei digiuni rituali piuttosto severi o addirittura la parodia del battesimo in questo rito di iniziazione bachico in cui l'eucarestia da una parte il battesimo dall'altra venivano fatti oggetto di capiamo benissimo perché la magistratura pontificia nel 1720 e non per come dire ottusità o dispotismo perché queste immagini sono oggettivamente blasfeme per capirci per capire voglio dire le tensioni in atto guardiamo questa stampa nell'immagine che conosciamo tutti la scuola di Atene di Raffaello arriva in Olanda come stampa ovviamente con un titolo a dir poco stupefacente non la scuola di Atene ma San Paolo sull'Areo Pago ora poi vi spiego cosa significa esattamente la scuola di Atene è uno dei più grandi documenti di umanesimo cattolico romano in cui gli spiriti magni dell'antichità sostanzialmente vengono accolti all'interno della chiesa come predecessori almeno quasi sullo stesso livello dei profeti dell'antico testamento Platone Aristote in particolare Platone che indica verso l'alto no? quindi la scuola di Atene è nel programma iconografico Raffaello esco l'immagine di una grandiosa conciliazione tra l'antico e cattolicesimo all'insegna degli spiriti magni di una continuità di trasmissione di eredità che significa anche capacità dell'umanità di giustificarsi in qualche modo attraverso se stessa San Paolo sull'Areopago che dice Dio non dimora nei templi fatti da mano d'uomo quindi è un San Paolo iconoclasta per certi versi che precorre l'uso in auge negli anni sessanta in Olanda e nelle fiandre francesi di tenere messa al di fuori delle chiese di tenere i sermoni nel bosco un San Paolo che si schiera contro le scuole filosofiche antiche contro le regioni pagane e che condanna l'adorazione degli idoli condanna diciamo così in presenza dei suoi interlocutori greci sull'Areopago quindi la scuola di Atene di Raffaello viene sì diffusa divulgata in Olanda ma significando qualcosa di completamente diverso ecco da dove nasce il tema delle rovine Dio non abita nei templi fatti da mano d'uomo e non ci stupisce che nella generazione immediatamente la generazione dell'iconoclasmo inizia a dipingere in Olanda chiese sconsacrate distrutte dal fuoco saccheggiate vilipese in rovina lo spirito che quelle chiese erano ormai come dire preda dell'anticristo il vero Cristo è finalmente potuto evadere da quelle mura blasfeme ad orne di opere d'arte distrutte incendiate e effondersi sulla campagna olandese lo troveremo presso l'umile lavoro del contadino lo troveremo nelle distese di terra bassa lo troveremo nell'albero che morto riprende a verdeggiare ecco il senso della rovina qui effettivamente registra la distruzione delle chiese là nelle vedute di Roma è una sorta di simpatico anatema o di simpatico malocchio lanciato contro l'odiata capitale pontificia e potremmo continuare con un'ultima figura diciamo così di questa retorica che è religiosa prima di diventare visuale il guado la scoperta del paesaggio italiano centro italiano agro romano finalmente in un senso diciamo così conciliato ma attraverso la figura del guado cioè dell'attraversamento del mar rosso dunque dunque il pittore trova la sua santità lasciandosi alle spalle le rovine la pittura di storia di religione guadando il fiume ritrovando il libero paesaggio e reinventandolo a suo modo e quanti viaggiatori che si abbeverano alle fonti le fonti di vera vita lasciandosi dietro rovine fatice ecco la scoperta del vuoto l'invenzione di un paesaggio centro italiano come luogo sostanzialmente di distruzione dell'idolatria e invece luogo dell'esperienza di una libertà che verrebbe da dire sola fide di una grazia che si ottiene sola fide quindi è chiaro oggi noi ci stupiamo no che questi pittori vadano lì e catturino la wilderness non c'era forse dobbiamo cercare le motivazioni di questo legittimo di questa legittima costruzione o invenzione del paesaggio italiano in termini di vuoto che vuol dire anche di primitivismo se vogliamo di brutalismo di ritardo diciamo come vogliamo di assenza di forme descrivibili di forme di modernità riconoscibili e descrivibili io ho finito grazie 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 professore dantini apriamo la discussione con i contributi che possono arrivare sia da qui sia dal web attraverso i nostri canali social le interazioni che sono rese possibili siamo in presenza della classica comunicazione molto erudita e estremamente suggestiva che sulle prime diciamo atterrisce e va un po' a conculcare qualsiasi forma di interlocuzione io ad esempio avrei alcune questioni da sottoporre ma come dire ne colgo tutta la brutalità a proposito rispetto alla finezza con cui sono stati esposti gli argomenti non so se ci sono delle domande altrimenti appunto avrei io un paio di questioni da sottoporre comunque robe anche semplici dai non ci facciamo io studio queste cose sono tenuto ad essere professionale ma qualsiasi tipo di curiosità e di terrore accoggia benvenuto sì sì assolutamente già questo serve da viatico per me come dire a farmi sentire meno imbarazzato nel porre queste questioni intanto è come dire impressionante a essere visualizzata e anche in qualche modo rammemorata questa insistenza sulla desolazione romana a fronte appunto della realtà effettiva e mi viene in mente quanto reiteratamente anche in tempi recenti e anche attraverso i contemporanei mezzi di comunicazione noi sviluppiamo e facciamo calare uno sguardo etnografico su alcune grandi realtà urbane del mondo dei paesi in via di sviluppo rappresentandone sempre la periferia i margini mi veniva in mente adesso capisco che si tratta di una equiparazione o comunque di una connessione un po' acrobatica ma ne prendo la responsabilità mi veniva in mente ad esempio come noi vediamo raffigurata Kabul nella iconografia televisiva stiamo parlando di una città che è più grande di Roma come popolazione eppure la vediamo sempre polverosa periferica desolata un po' come quelle visioni romane le vedute romane esatto sempre così però adesso questo ho aperto e chiuso perché insomma dopo non riuscirei a reggere l'osservazione invece mi interessava capire due cose la prima è quanto diciamo in queste raffigurazioni che appaiono unilateralmente demolitorie ci sia anche una estetica un'attrazione diciamo così del selvaggio del brutale del primitivo no? perché diciamo mentre alcune iconografie che ci sono state mostrate sono visibilmente diciamo orientate a costruzione di uno stereotipo negativo in altri casi c'è una letizia nelle figure umane c'è una forma di giovialità arcadica che lascia intendere come dire un panorama interpretativo chiaroscurale e poi la domanda delle domande è com'è che questa base iconografica diventa poi il presupposto per le visioni molto più positive se vogliamo molto meno decadenti del panorama paesaggistico architettonico architettonico urbanistico e umano che vediamo nell'epoca classica del Grand Tour cioè com'è che diciamo si transita verso un'accezione se non positiva comunque sicuramente meno denigratoria meno negativa dell'Italia nell'epoca classica del Grand Tour quindi intendo il XVIII secolo considerando appunto che questo retaggio poteva essere veramente imbarazzante ed ingombrante cioè qualcosa oltre il quale venendo da paesi protestanti o comunque contrassegnati da questo retaggio culturale oltre il quale non si poteva andare queste erano un po' le due questioni che mi erano venute in mente poi naturalmente se ci sono altre domande mi dicono che sono arrivati intanto dei complimenti sul web per la qualità dell'esposizione grazie fa molto piacere grazie dunque l'attrazione per il selvaggio questa è una domanda molto interessante devo dire che qui si tratterebbe ancora di tessere tutti i fili della cosa io registro questo cioè con insomma con il XVI secolo inizia ad arrivare un euro e ancora più all'inizio del seicento ormai è matura la situazione arrivano testi che raccontano del nuovo mondo testi anche illustrati e che raccontano in particolare delle grandi foreste brasiliane della natura in scala monumentale e già in Montaigne a mio avviso leggendo la sua relazione di viaggio in Italia noi troviamo delle descrizioni delle descrizioni diciamo così degli italiani come dei buoni selvaggi e questo secondo me uso un termine una locuzione settecentesca ma per far capire dove le relazioni dei gesuiti diciamo così dal nuovo mondo che appunto sono così attive nei saggi di Montaigne secondo me possono spiegare un certo interesse per la natura selvaggia e gli olandesi chiaramente che sono spettatori di questo ricco commercio transatlantico nei loro porti con l'arrivo di fauna e di spezie di merci dal nuovo mondo certo e anche dall'estremo oriente possono farsi portatori io credo però che l'elemento in qualche maniera religioso questa autorappresentazione come riformati dunque liberi sia decisiva in questa scoperta del vuoto perché tra ciarpame barra liturgia barra reliquie barra iconolatria barra si sono stabiliti dei rapporti nella loro polemica diciamo così anticattolica molto forti dunque altra domanda molto interessante l'ambivalenza sì c'è l'ambivalenza lo vediamo bene in tante immagini però c'è anche una grande distanza cioè per esempio un topos visuale è il pittore che dipinge le rovine che si autoritrae in uno schizzo di sé che dipinge le rovine accanto passano gli indigeni e non c'è nessuna relazione non c'è nessuna curiosità lì abbiamo il protocapitalista diciamo così che estrae valore dal soggiorno romano studiando l'antico e lì abbiamo i sussistenti che invece in cambio di un ritardo diciamo così e di un candore hanno sì questa giovialità e sono guardati possono essere guardati con simpatia ma sul presupposto di una divaricazione di classe molto precisa dunque poi per quanto riguarda le immagini più positive successive sì chiaramente io vi ho presentato un campione particolarmente polemico no? gli olandesi particolarmente reattivo e la tradizione francese delle vedute d'Italia è già diversa inclina più alla pastorale e d'altra parte c'è un cattolicesimo che bene o male avvicina pittori e pittori ma c'è sempre l'amnesia c'è sempre la non disponibilità di una modernità no? per esempio mi piace citare un disegno di Lorraine di Claude Lorraine che è uno dei grandi inventori del paesaggio d'Italia lo conoscerete con le sue vedute di porti molto belle con questa luce scenografica c'è un disegno di Lorraine di contadini che arano un campo che zappano un campo ecco non è casuale credo che di questo disegno non ci sia stata nessuna traduzione pittorica da parte di Lorraine stesso che quando dipinge la campagna romana dipinge pastorali non dipinge persone che lavorano dipinge pastorelle che sembrano Maria durante la fuga in Egitto dipinge echi di pittura religiosa echi testamentari echi bucolici georgici l'impatto l'interferenza che su questo immaginario ha la conoscenza di Virgilio e di Orazio è incalcolabile cioè si dipingono citazioni della poesia latina e della grande pittura italiana l'attenzione finisce qua nel museo a cielo aperto in cambio di questo abbiamo invece come dire testimonianze ancora nell'ottocento forse più più di in ogni altro tempo nell'ottocento di una raggelante antipatia nei confronti dell'Italia presente io vi cito qua non l'ho preparato fidatevi nel senso cito qui a memoria un passo di Shelley grande poeta inglese il quale divarica senza nessuna esitazione l'Italia nell'Italia antica degna d'ammirazione dei paesaggi italiani bellissimi in particolare i golfi e nell'Italia di straccioni e ladri che popola le strade della penisola e la testimonianza forse più agghiacciante è questa perché ve la voglio raccontare sarò brevissimo John Ruskin figura estremamente famosa ideologo delle arti figurative storico scrittore di grande fascino uno dei grandi creatori del mito vittoriano dell'Italia delle pietre di Venezia anziché Bologna davanti a una chiesa che non ricordo Ruskin arriva passa di lì vuole disegnare la facciata trova una donna povera che fa l'elemosina la donna reca in braccio un bambino che sta morendo disidratato che sta morendo di fame e Ruskin ci dice tutto il suo disgusto nei confronti di questa donna nei confronti di questo bambino devo dire la sua sincerità è itleriana per certi versi fa pensare ci dice che si ha dato l'elemosina ma si giustifica ho dato l'elemosina non perché provassi pietà per niente al contrario ho dato l'elemosina perché lei mi servisse e continuasse a scacciare le mosche che aleggiavano attorno al bambino e il bambino per lui non è una creatura che sta morendo è una citazione di Luca Giordano dalla peste una macchia di colore carnato con sopra una camicetta bianca ecco quindi attenzione a pensare che quando ad esempio si è chiamati Pigs ed è successo pochi anni fa tutta questa storia un po' interminabile diciamo così no? che ha origine che ha origine delle lacerazioni religiose diciamo così cinquecentesche non sopravviva in maniera spesso odiosa e che il turista diciamo così o che certe aspettative del turista siano sempre questa siano un po' questo ritardo in cui si mescola qualche ignominia una chiudo qua con questo boutade si parla tanto di turismo e di hospitality per rilanciare l'economia italiana è chiaro che se avessimo una classe dirigente adeguatamente scolarizzata parlando di turismo ci preoccuperemo di smentire simili stereotipi e di investire quindi in professionalità a elevata specializzazione perché questo non è in qualche maniera atteso e può sorprendere e può ampliare giusta osservazione che condivido al 101% c'è qualcuno che vuole intervenire controllo anche a distanza se ci sono prego prego c'è il microfono alla nostra destra dunque buonasera e grazie per la sua relazione che è stata veramente illuminante per certi aspetti dunque io mi vorrei concentrare sul tema della finzione che aveva posto proprio al centro della sua della sua riflessione e mi è sembrato di intendere una appunto finzione in termini proprio molto materiali cioè la finzione che ha inteso lei era in merito alla iconografia e quindi nel senso di non leggere l'iconografia nel senso delle vedute e quindi per quello che si presenta ma anche per tutto quello che metaforicamente può venire a rappresentare e per quanto riguarda il concetto di finzione mi chiedevo se allora agisse come non so a retroterra anche alle sue alla sua metodologia una visione gombricciana dell'illusione in rapporto all'arte e cioè per la quale appunto l'iconografia è in qualche modo la testimonianza che l'osservatore guardi già e quindi anche il pittore osservatore guardi già con occhi in qualche modo schematizzanti selettivi sì esatto no no scusa per carità poi avevo invece un'altra domanda un po' più concreta forse e mi sembrava di riscontrare una tensione in merito alla critica al costume papista dei pittori che ha appunto considerato lei tra un'adesione privata quasi personale appunto alla critica papista quindi se effettivamente condividessero personalmente e una invece adesione pubblica e cioè mi chiedo se effettivamente quella critica fosse una critica personale oppure come una forma di adesione ad un'atmosfera che era propria del tempo e del loro spazio naturalmente e quindi in questo se si potesse riscontrare una adesione quasi comunitaria rispetto ad una scuola o comunque ad un'appartenenza grazie bene grazie a lei tanto le dichiaro la mia commozione a sentir nominare Gombrich ormai veramente non 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 è più una cosa corrente diciamo si parlava prima della gloriosa collana arancione a Naudi che è passata tutta editori diciamo così molto più magazzinieri tra cui Gombrich Panoschi Baxan eccetera beh era un grande un grande vecchio io l'ho anche conosciuto scritto su di lui per cui mi fa molto piacere certo il senso di una come pochi altri con una con un'acutezza e una tenacia una perspicacia straordinaria lui ha insistito ci ha insegnato a leggere nelle immagini delle costruzioni quindi certamente ci mancherebbe tutti si dovrebbero mettere alla sua scuola ora qui in arte illusione ma e poi sempre di nuovo in seguito lui ha richiamato piuttosto elementi di psicologia della percezione cioè di una resa sempre più minuta della percezione e quindi in qualche maniera in un perfezionamento sempre più sottile del naturalismo attraverso l'atmosfera attraverso qui finzione non è tanto a fini illusionistici è proprio a fini di racconto di messa in pagina di una narrazione con quello che si dice e soprattutto le amnesie quello che non si dice quello che si rimuove quindi non è tanto intesa in sensi di psicologico percettivi quanto in senso proprio di retorica nel senso di topoi che vengono che vengono che vengono coniati e poi ribaditi sempre di nuovo quindi è un po' diverso sulla seconda domanda e chi lo sa nel senso che non sappiamo cosa fosse davvero nella mente dell'artista facciamo fatica a districare elementi di biografia religiosa dei singoli artisti i documenti tacciono per lo più di Berchem sappiamo ad esempio che è nato cattolico ma poi si converte al calvinismo quindi questi elementi ma comunque molti elementi di dissimulazione di opportunismo di adeguamento di autoposizionamento di nicodemismo come si dice al tempo possono anche elementi contingenti di committenza perché si poteva dipingere anche quadri per committenti cattolici romani cambiando completamente posizione è difficile generalizzare è impossibile bisogna fare caso per caso è quasi quadro per quadro capisci mentre io adesso voglio fare un discorso diciamo di sociologia della religione applicata alla cerchia alla cerchia quindi estrapolare diciamo delle costanti che mi sembrano significative e segnaletiche di un laboratorio in cui evidentemente dei luoghi comuni che sono quelli anche della polemica anticattolica sono nutrono l'immaginazione in una forma più dispettosa di quello che noi oggi sospettiamo ecco e quello che interessa ancora è segnalare le lacerazioni di un'unità di un'unità culturale europea che c'era fino a due generazioni prima e poi nel libro che vado costruendo fare anche apologia di una tradizione figurativa che è quella cattolica quindi anche dissolvere come scarsamente rilevanti queste point polemiche non so se ci sono altri interventi in platea ce n'è uno a distanza che magari può sembrare strinseco ma in verità forse non lo è vediamo nel senso che viene chiesto un suo parere sulla pittura di Giovanni Segantini e in particolare sui suoi paesaggi è chiaro che il tredugnone è costituito appunto dalla veduta della veduta del valico in quel caso ma il confine già ma ora diciamo al di là della critica di gusto mi piace non mi piace Segantini è un pittore che credo non interessi non è questo il merito della domanda Segantini può essere in qualche maniera fatto oggetto di esame i quadri alpini le vedute alpine di Segantini possono essere fatto oggetto di esame sia sulla base di una precisa tradizione iconografica che affonda in questa scoperta del vuoto questa invenzione del vuoto nella pittura olandese di paesaggio d'inizio 600 quindi in questo senso la pittura di paesaggio di Segantini certamente ma ormai come dire attraverso i decenni attraverso i secoli ma una radice che può essere in qualche maniera riportata a questi primi esperimenti di quadri in assenza di topografia in assenza di iconografia sacro-religione dall'altro lato può essere fatta oggetto di esame in merito alla costruzione di un paesaggio un altro paesaggio il paesaggio alpino con degli elementi epici che sono la virtù del buon selvaggio vedi il pastore vuoi la salubrità dell'aria delle vette quindi una certa rivendicazione un certo rifiuto dell'urbanesimo in qualche maniera una certa rivendicazione del decentramento della periferia un certo quindi anche lì si tratta di trovare le fonti testuali letterarie saggistiche giornalistiche polemiche attraverso cui Segantini inventa una sua patria è una patria del quadro una patria della pittura che è l'engadina quindi strumenti simili ma circostanze completamente diverse insomma poi a me mette malinconia però non è la mia tazza di te io volevo tornare ma andiamo a chiudere ovviamente anche perché non voglio abusare della competenza della disponibilità del nostro ospite volevo però tornare sul richiamo ai PIGS no? Portogallo Italia Grecia e Spagna diciamo che quell'osservazione che è stata fatta lascia intendere che Eurotower Banca Centrale Europea e in generale poteri finanziari europei in una certa stagione abbiano compulsato con grande attenzione la pittura degli olandesi che risiedevano a Roma perché veniva come dire da osservare come in verità Spagna e Grecia siano stati in altri frangenti destinatarie di prospettive analoghe rispetto a quella dell'Italia in particolare la Spagna che a un certo punto forse ha funzionato quasi come equivalente sostitutivo dell'Italia quando l'Italia con l'evidenza della sua unificazione nazionale con l'evidenza della sua urbanizzazione della sua industrializzazione è stata difficilmente rappresentabile come vuota mentre invece Spagna vassada la Spagna vuota la Spagna desolata è diventato un topos che poi è arrivato nella cinematografia del ventesimo secolo si più in generale diciamo così questo sguardo di tipo etnografico o esotizzante sottilmente denigratorio in qualche maniera o ambivalente si trasferisce dal paesaggio europeo al paesaggio via via nordafricano centroafricano e estremo orientale cioè passa direttamente tra 7 e 800 esce dall'Europa per quanto certe riduzioni del paesaggio italiano alla pastorale ci siano ancora nella prima metà del novecento fino agli anni 20 cioè pittori francesi che vengono in Italia cercando l'Arcadia insomma quindi la longevità malgrado Milano malgrado i futuristi malgrado le una cosa che per me possiamo concludere qui non voglio ecco proviamo a leggere futurismo e metafisica sotto la specie della veduta d'Italia come delle contro cartoline del Grand Tour attraverso degli scritti anche tra i pochi per me significativi rilevanti se non come documenti storici di Marinetti sulle città morte Firenze e Venezia ad esempio che danno la chiave di una polemica contro l'immagine turistica dell'Italia molto interessante decoloniale ecco e secondo me il rapporto che c'è tra la Milano che sale di Boccioni e le piazze d'Italia di De Chirico è appunto il rapporto che c'è tra chi dice ci siamo stancati di essere la vostra Arcadia e manda dispacci diciamo così al nord Europa in America di un certo tipo cantieri e chi invece dice siamo ancora questo le nostre città sono deserte sono vestigia di un rinascimento perduto in attesa del condottiero che può riscattare il paese le ombre delle statue diciamo così il risorgimento quindi contro cartoline molto interessante grazie professor Dantini davvero io nel rinnovare il ringraziamento al nostro ospite alle persone che ci hanno seguito ricordo i prossimi appuntamenti dei nostri cicli allora per quanto riguarda il ciclo sul viaggio la prossima tappa non è una battuta è venuto spontaneo è quella relativa ai italiani nel mondo l'immigrazione nel ventunesimo secolo con delfini alicata quindi 13 maggio ma molto prima c'è una nuova conferenza del ciclo del centro studi religiosi dedicata la lettera ai romani San Paolo il cristianesimo delle origini con il professore Antonio Pitta e questo sarà giusto venerdì prossimo 8 aprile quindi naturalmente è inutile dire che siamo felici di proseguire in queste due direttrici di alta divulgazione grazie ancora e buona serata a tutti grazie professore grazie a voi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti